10 minuti, 15 minuti Mi ricordo che prima ci sarà la funzionatura da parte del giudice Urisco Mi, mi, mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi Non è tanto volo, mi rivolgo. Non lo hai fatto bene? Hai fatto proprio l'attaccio te? Ti fatti passare voi? Devo far passare? Ce n'è tanti? Sono tutti! Come ti catti! Non è nessuno! Inませci! C'è tutto questo il quinto! È essenziale! È essenziale! È la mia risa! Questa è un attaccio! Il Cinco è diritto, eh? No, quella dove va? No, no, no! C'è il ma che arrivano qui! Ma... Loro! E' la nostra, saluta! Ciao, ragazzi! ... ... grazie a tutti 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 ciao grazie a tutti 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 prima donna grazie a tutti 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 grazie a tutti